È il nostro primo anno, ma siamo già grandi. Abbiamo assunto a tempo indeterminato 120 giovani, di cui 118 autisti. E portato l'edà media del personale da 55 a 48 anni. Un'azienda giovane, aperta ai giovani. La nostra flotta è cresciuta del 55%. Stiamo investendo in sostenibilità ed innovazione. Stiamo realizzando il primo progetto di infomobilità della città di Messina. Oltre 36 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione del sistema tramviario. I nostri servizi sono alimentati da energia elettrica rinnovabile. ATM S.P.A. è un'azienda giovane che vuole mantenere gli equilibri di bilancio, che favorisce il ricambio generazionale, che prevede il potenziamento dei servizi, l'innovazione e i progetti a medio e lungo termine. In una parola, oggi più che mai guidiamo il cambiamento.